Good morning! Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti! Good morning Milano! Come state? Cosa fate? Dove andate? Eccoci qua per una nuova puntata. Oggi è martedì 11 giugno 2024 e siamo pronti a iniziare una giornata insieme. Insieme qui sulle frequenze di Crystal Radio 96.2 FM per tutta Milano oppure Dub Plus in tutta Lombardia. Sì, con la vostra autorata potete sentirci ovunque andiate in Lombardia e se per caso dovete andare fuori regione o magari anche fuori nazione, beh non c'è problema, c'è l'applicazione per iOS e Android oppure anche il sito internet crystalradio.it. Insomma anche se vi hanno eletto al Consiglio Europeo, avete vinto le elezioni e dovete andare a fare il Consiglio Europeo, potete sentirci anche a Strasburgo o anche a Bruxelles tranquillamente con l'app di Crystal Radio oppure con il sito. Quindi siamo sempre con voi, troverete sempre il modo di rimanere collegati con Milano. E anzi fateci sapere cosa avete intenzione di fare oggi, cosa avete in programma, cosa avete fatto in questi giorni al 331-7853-555. Insomma siamo qui pronti a passare un'altra mattinata insieme, giornali davanti pronti a essere eletti, il vostro WhatsApp è aperto qui per i vostri messaggi, prontissimi. Ok, anche con le previsioni del meteo perché oggi, eh sì, bello il tempo fuori adesso, eh adesso, dopo ne riparliamo. Dalle 19 arriva il delirio, è benissimo, stasera vado anche al concerto di Vasco, quindi mi sa che, ma vabbè. Speriamo in bene dai, iniziamo invece con un po' di musica, anzi con un po' di energia, così che almeno insomma la mattinata inizi con il sorriso. I'm a Believer, I'm a Believer, The Monkees, era il 1966, sì, no, è quella lì che avete sentito anche in Shrek, è proprio quella, sì, ma non è l'originale questa, ok, non è che, ah, vi stanno rifatto quella di Shrek, no, quella di Shrek arriva dopo, prima c'era questa qua, sì, The Monkees, 1966, I'm a Believer, grazie anche ai WhatsApp che stanno arrivando invece in questo istante. Un saluto a tutti i cristallini, a Fabio e alla redazione, buongiorno Alberto. Dopo la buffata elettorale tra europee e amministrative, si torna al quotidiano tra meteo e caos, trasporti, orario estivo, guasto tra i nord e linee deviate, linee deviate, scusate, per lavori. Ebbene sì, mi anticipo appunto quello che stavo per leggere dai giornali, dai quotidiani, perché Repubblica ha risolto il guasto che ha mandato in tilt la circolazione di treni a Milano, cancellazioni e ritardi però continuano. Circolazione è fortemente rallentata ieri intorno a mezzogiorno, dopo cinque ore è cominciato il lento ripristino della normalità. RFI dice che però, insomma, le code si smaltiranno in questi giorni. Entro ieri dovevano in teoria sistemarsi tutto. Però insomma, grandi guasti di treno nord. c'è stato appunto un treno, anche treni fantasmi, cancellazioni e ritardi fino a 180 minuti, treni fantasmi come ad esempio il treno per Battipaglia, quindi non è solo treno nord ma anche ferrovie dello Stato, che doveva portare appunto molte persone a Roma, quello delle 17.10 non si è mai trovato, cioè non è proprio esistito quel treno e quindi niente. Per fortuna, insomma, un po' messa meglio la situazione, sta andando a rimettersi a posto. È stato un inconveniente tecnico alla linea, che ha messo 40 tecnici al lavoro, RFI, gli ha messi 40 tecnici al lavoro per sistemare il problema, legato alla disconnessione degli apparati tecnologici di gestione della circolazione. Tutto a posto, quindi no, perché invece da lunedì 10 giugno, cioè ieri, cosa è successo? ATM comincia a fare l'orario estivo e quindi tagli delle corse delle metropolitane. Primo passo dell'orario estivo a rischio anche bus e tram. Ovviamente con la fine dell'anno scolastico scattano le attese allungate di due o tre minuti nella rete sotterranea. Rebus fieri in ATM per la carenza di organici, da capire se in superficie si aggiungeranno quindi altri tagli. Perché sappiamo che c'è anche questo tema grosso e importante del fatto che ATM cerca lavoratori, fa anche delle buone promozioni, diciamo, se non hai la patente te la fanno loro, ti danno due anni di incentivo per la casa e tutto, ma non si riesce comunque a trovare chi vuole andare a lavorare in ATM. Sappiamo, abbiamo letto più di una volta, che in realtà il tema non è tanto che non si trova chi risponde agli annunci, che quelli ci sono, ma il problema grosso è che molti poi non passano i test. E quindi a quelli che proprio li facciamo passare un po' così, abbiamo un problema anche di preparazione dell'organico che poi dobbiamo andare a mettere in strada o sulle metropolitane o sui mezzi di superficie. Quindi poco organico, difficile reperire di nuovo, complicato l'iter anche poi di assunzione e tutto, ci sono questi test a superare e non tutti li superano. Insomma, non è semplice. Questo va quindi poi a inificiare anche la possibilità di migliorare il servizio pubblico del TPL, il trasporto pubblico locale, che sarebbe importantissimo in una città come Milano dove, ahimè, la fa da padrona, come sempre, il traffico. E quindi andiamo a sentire come tutte le mattine luce verde per avere un'immagine chiara, precisa, puntuale di quello che sta succedendo in questo momento sulle strade di Milano, della città di Milano, della provincia di Milano e della Lombardia. Luce verde, a te la linea. Gali con paprika alle 7 e 21 minuti di oggi, martedì 11 giugno, qui su Crystal Radio. Good morning Milano. Queste le coordinate, lo sapete tutto, anche il nostro numero di WhatsApp 331-78-535-555. Potete scriverci, raccontarci un po' tutto quello che avete intenzione di fare oggi. Grazie ancora ad Alberto per il suo WhatsApp, che ci ha introdotto un po' ai temi di oggi, che sono appunto l'orario estivo di ATM, il guasto di Trenodo dei giorni scorsi, le linee deviate per lavori. Ci sono tantissimi i lavori che stanno partendo in città, i cantieri che sono stati aperti. Ovviamente, come sempre, poi alla fine della scuola in estate viene utilizzato giustamente questo momento per fare i lavori in città e quindi ci sono anche i cantieri. Oltretutto, attenzione, perché nuovi orari anche per la M2. Leggiamo dal sito di ATM. I treni devono viaggiare a velocità limitata tra Cimiano e Crescenzago, con un aumento dei tempi di viaggio, che si aggiungono anche ai tempi estivi, all'orario estivo. Abbiamo aperto il cantiere per conto del Comune di Milano per le barriere antirumore lungo la linea orari a questa pagina, nel senso che sul sito di ATM c'è una pagina dove, se voi cliccate, sono tutti gli orari dei nuovi passaggi, diciamo, della M2. La M4 è chiusa perché i treni sono sostituiti dai bus di M4, stanno svolgendo i test per l'apertura fino a San Cristoforo. Anche qui c'è una pagina dove potete vedere gli orari degli autobus. Mi piace come poi scrivono i messaggi, cioè gli annunci. Secondo me l'annuncio di M4 dovrebbe essere M4 chiusa, treni sostituiti dai bus di M4 in svolgimento, test per l'apertura fino a San Cristoforo. Io scriverei così se fosse ATM. Invece no, te la fanno personalizzata. Cioè, non personalizzata, ma personale. I treni sono sostituiti dai bus di M4, stiamo svolgendo i test per l'apertura fino a San Donato. È così, no? Abbiamo aperto il cantiere, non cantiere aperto al Comune, no. Abbiamo aperto il cantiere, come se fossero i nostri amici, no? Così si cerca l'empatia anche con ATM. Poi bus 50 e 64 nelle due direzioni, non passano in via Giacinti. Così volevo dirvelo. L'ho scritto qua, è uno degli avvisi di ATM di questa mattina. La 50 verso Cairoli salta le fermate tra Piazza Frattini e Vesuvio. Deviazioni le trovate tutte sul sito internet appunto di ATM. Ci sono varie pagine con gli autobus tra i paesi 50 e 64, anche la 68 delle modificazioni alla linea. Ma sono tante le linee che in questo momento appunto hanno delle modifiche per via di lavori. Quindi mi raccomando, date un'occhiata al sito ATM dove trovate anche tutti i nuovi orari. Come abbiamo detto, orario estivo dal 10 di giugno. Con la fine dell'orario scolastico appunto, poi sarà avviato anche il cantiere per conto del Comune per realizzare le barriere antirumore nei quartieri di Cimiano e Crescenzago. Quello che abbiamo sentito appunto, quindi con la M2 che rallenta e non andrà proprio... Cambio di orario perché va solo su un binario, ci sono più rallentamenti, quindi bisogna stare un attimino all'occhio, come si dice in questi casi, per vedere bene quando e come muoversi. Lo dico sempre, stavo dicendo, sta arrivando il bel tempo. Quando arriverà il bel tempo, che dovrebbe arrivare a fine mese, da aprile che ci diciamo, magari possiamo anche utilizzare di più la bicicletta, visto che insomma c'è meno traffico in città, le scuole sono chiuse. Dopodiché dico sempre che la maggior parte dei movimenti in città tranquillamente si possono fare a piedi ormai. Nel senso, difficilmente... È tutto... Milano è una città a 15 minuti, qualcuno la vuole rendere a 15 minuti, ma effettivamente al momento è a 20, forse non... Cioè, è tutto molto vicino comunque, quindi si può fare, dai. E speriamo che veramente questi temporali ci lasciano un po' di tregua perché non se ne può più. Stasera devo andare al concerto, sono veramente disperato. Come faccio a vedere... No, no, più che altro io sono al coperto, ma quelli giù no, e Vasco magari sul palco no, quindi non vorrei che magari... Ecco, non dico niente per non portare sfortuna. Dai, musica! E' Adriano Celentano con Azzurro che ci fa entrare nella seconda mezz'ora di trasmissione, come sempre qui su Crystal Radio con Good Morning Milano. Milano che è stato insomma sede del voto come tante città in Italia, ma in cui siamo andati un po'... facciamo l'analisi del voto, noi insomma i giornali di Milano hanno analizzato un po' il voto in città e in regione, anzi partiamo dalla regione appunto. Da Repubblica Milano leggiamo Europee in Lombardia, le regine sono Meloni, Strada e Salis, eletti anche Gori, Vannacci e Moratti, fuori Fiano, Pizzul, una Ume Calenda. Anche Patrizia Toia non è stata eletta, ho visto, prima c'erano gli articoli su quello, dopo era la sua quinta candidatura, ma tanti sono appunto quelli che sono rimasti fuori, ma tanti sono quelli che hanno preso una fraccata di voti, possiamo usare questo termine. E allora, nella circoscrizione nord-ovest, due donne hanno preso più voti di tutti. Una è una politica di lungo corso, che è la Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, con 623.000 preferenze solo in una circoscrizione nord-ovest, di cui 418.000 in Lombardia. La seconda è un outsider, così definita, però insomma, non la definirei molto outsider comunque. Cecilia Strada, capolista del PD, con 283.000 voti, di cui 191 solo in Lombardia. Grande successo anche per il democratico Gori, Giorgio Gori, con 210.000 voti in tutta la circoscrizione, 178.000 nella regione, l'ex sindaco di Bergamo, per intenderci. Poi Roberto Vannacci ha portato alla Lega 186.000 voti nella circoscrizione, di cui 122.000 solo in regione. Ma quindi il generale, ovviamente Repubblica vuole fare notare questa cosa, che il generale viene superato dalla figlia del fondatore di Emergency, appunto da Cecilia Strada, che lo doppia praticamente. Grande successo anche per Ilaria Salis, appunto, candidata di AVS, che arriva a 126.000 voti, di cui 78.000 in Lombardia. Ma qui il dato che fa più riflettere è quello sui fuorisede. Come hanno votato i fuorisede nelle urne aperte al Politecnico e alla Cattolica? Bene, in 3.962 sono andati a votare, i fuorisede che hanno votato a Milano, 3.962 elettori che hanno fatto stravincere l'alleanza Verdi e Verdi e Sinistra Italiana, cioè AVS. Ok, sì. La cosa divertente è che questa è una legge che tante volte è stata richiesta ai vari governi, anche quando i governi erano più, diciamo, di centro-sinistra e non si è mai fatta. Finalmente un governo la fa, approva questa idea ed è il governo che non viene votato da coloro che poi usufruiranno di questa possibilità. Quindi i fuorisede appunto fanno stravincere il centro-sinistra soprattutto nella città di Milano appunto che ha visto dei numeri pazzeschi cioè il 28% ha votato l'alleanza Verdi e Sinistra il 27% il PD una roba pazzesca ma anche Calenda e gli Stati Uniti d'Europa quindi azione e gli Stati Uniti d'Europa avrebbero tranquillamente superato il classoglio del 4% rispettivamente 9-7% e una roba con il 16% d'azione cioè delle cifre pazzesche assurde che non hanno minimamente niente a che fare con poi il risultato finale delle elezioni. Questo ci fa capire soprattutto come un certo tipo di elettorato molto giovane cioè i giovani che iniziano che hanno votato da poco gli universitari e che venga richiesta forse dal fuorisede che ha una certa connotazione politica però e questo è che è importante da capire nell'analisi del voto. Peiote articolo 31 e tutta la combricola che canta con loro oggi è martedì 11 giugno e dall'almanacco del giorno di oggi abbiamo visto ma anche il telegiornale di prima il giornale radio ce l'ha detto e ce l'ha ricordato appunto nel 1984 40 anni fa moriva Enrico Berlinguer proprio alla vigilia delle elezioni europee che anche in quell'anno ci sarebbero state ricordiamo infatti che il 7 giugno proprio a Padova durante un comizio per la chiusura della campagna elettorale per l'europea il segretario del partito comunista Berlinguer mentre stava facendo un comizio è stato male famosissimi filmati l'avete sentito nonostante appunto a un certo punto lui si vede palesemente che qualcosa succede a un momento di smarrimento succede qualcosa ma poi va avanti a fare questo comizio tra parentesi veramente immagini drammatiche verrebbe da dire con la folla che capisce che c'è qualcosa che non va e urla famosissima si sente un basta Enrico basta fermati Enrico urlato dalla folla ma nonostante questo appunto Berlinguer vuole portare a termine il suo comizio lo porta a termine dopodiché appunto appena rientra in albergo finisce finisce praticamente in coma e ci lascerà invece qualche giorno dopo appunto l'11 giugno dell'84 appunto di 40 anni fa morì Enrico Berlinguer famosissime poi anche le immagini storiche ci sono film e canzoni praticamente che raccontano tutto dei funerali di Berlinguer che poi avverranno qualche giorno dopo a Roma in una piazza non in piazza del popolo ma non solo in una Roma completamente invasa da bandiere insomma un'immagine che è simbolo secondo me anche proprio di una certa politica che finì quel giorno in un certo senso nel senso che se la prima repubblica arrivò fino al 92 con mani pulite da Gentopoli forse però un certo tipo di fare politica un certo tipo di politici incominciò a smettere di esistere in quell'istante da una parte e dall'altra non sto parlando solo della sinistra ma anzi anche e soprattutto forse anche di tutto quel comparto del centro della destra che comunque esisteva ed era anche abbastanza rappresentata da certi personaggi che comunque facevano sentire la loro forza poi qualcosa si incrinò qualcosa successe uno a uno questi personaggi anche per motivi anagrafici dovettero lasciare la scena alcuni altri ce li sono portati avanti fino agli anni 90 e ben oltre ma qualcosa appunto cambiò e quel giorno secondo me è uno di quei giorni in cui veramente si può usare come spartiacque forse il primo dei due o tre gradini che si sono fatti verso la fine di quella che poi fu chiamata prima repubblica nessuno avrebbe pensato nell'84 quello che sarebbe successo una decina d'anni dopo con appunto mani pulite con l'avvento poi dell'area seconda repubblica e con il berlusconismo nessuno avrebbe pensato nell'84 quello che sarebbe potuto succedere dopo è arrivato tutto quello è arrivato molto in fretta adesso possiamo già parlare di terza repubblica forse quarta il tempo si sa sempre più i tempi si dilatavano una volta adesso invece si contraggono sempre di più si riducono sempre di più è sempre più veloce il momento che viviamo e quindi anche la politica che invece è una cosa lo sappiamo l'abbiamo sempre detto lenta perché i cambiamenti politici non si possono avvenire non possono avvenire in pochi istanti fa fatica a stare dietro al passo e forse anche per questo quel dato quel dato allucinante mi farebbe da dire dell'astensionismo quel dato che fa sì che se io guardo intorno a me so che ogni gruppetto di persone che guardo uno su due non ha votato uno su due non si è sentito rappresentato forse o uno su due non ha neanche pensato che fosse interessante andare a votare non lo so questo è un tema che bisognerà sicuramente sviscerare io per sentire alcuni che urlano alla vittoria da una parte dall'altra in questo momento mi fanno un po' paura vorrei che più che altro si facesse un po' di ragionamento sul fatto che invece l'unica vittoria l'ha avuta chi non è andata a votare e anzi vuol dire che tutti quanti abbiamo perso tutti insieme uno con uno uno con uno tutti insieme abbiamo perso giovanotti una tribù che balla 1991 è passato un bel po' di anni anche da questa tra l'altro si sentono tutti devo dire si sente tutto completamente quel 1991 cantato in questa canzone poi pensate che in questa canzone c'è allora la tromba l'avete sentita a un certo punto non la tromba è Demo Morselli ve lo ricordate Demo Morselli musica demo quello lì Demo Morselli nei cori nei cori c'è Paola Folli sapete chi è Paola Folli la storica corista quella di Vasco sì proprio lei quindi c'è un pezzo pazzesco un pezzo pazzesco appunto che però fa capire un po' anche come gli anni sono cambiati devo dire l'ho messo apposta appunto parlando di quello che era la prima repubblica poi la seconda poi la terza insomma fa capire un po' come gli anni 90 veramente hanno cambiato tanto tanto la nostra vita e la nostra storia comunque adesso invece stiamo per andare in pausa c'è il giornale radio dietro l'angolo appunto fra poco parte il giornale radio poi qualche consiglio per gli acquisti poi ci sarà anche il cristallistori sentiremo che cosa avrà in serbo l'ufficio programmazioni per noi alle 8 ma prima di andare beh andiamo qui con un pezzo che altro che cristallistori qua c'è un pezzone di quelli che tutti quanti ballerete canterete insieme struggendovi magari non struggiamo ecco troppo comunque iniziamo la giornata sempre con un po' di energia che è importante ed è giusto quindi come dicevo appunto piccola pausa giornale radio poi torniamo qua perché i nostri ospiti vedo che sono già arrivati quindi avremo degli ospiti molto interessanti subito dopo il giornale radio qui con noi in diretta qui su cristall radio a good morning milano e quindi sapete cosa fare voi invece turn around e si perché dice così e sentite cosa dice 8 e 07 cristall radio good morning milano sempre qui su 96.2 FM dub plus in tutta la Lombardia l'applicazione per i versi andrei insomma sapete che in qualsiasi modo riuscite a seguirci e sentirci ovunque voi siate o se per caso in questo momento dovete uscire di casa o dovete iniziare a lavorare non potete seguirci non c'è problema c'è il nostro podcast quindi goodmorning.milano.it diamo il buongiorno ai nostri ospiti invece sono arrivati qui a trovarci Lilo buongiorno Lilo buongiorno ed Elettrico buongiorno a tutti questi sono i loro road name sì perché avete dei road name perché voi siete gente che va in strada con le moto no? sì esatto sono dei bikers anzi sono i BACA i Bikers Against Child Abuse buongiorno e benvenuti però adesso bisogna capire cioè queste sono le informazioni ma dovete farmi capire che cosa sono perché troppe informazioni allora bikers va bene perché avete che moto avete giusto così per sapere che moto avete io ho una Honda Shadow ah anche il mio Alessio ce l'ha Harley vabbè tu sei proprio io vi invito anche a collegarvi a guardarlo cioè tu sei proprio lo stereotipo l'Harley la barba lunga a me manca solo l'Harley a me manca anche il gillerino il gillerino che è fondamentale perché appunto vi fa capire che fate parte di questa associazione che si chiama BACA che è qualcosa di molto interessante a livello internazionale e che appunto dal 2010 esiste anche in Italia ma che insomma lascio parlare un po' a voi perché è più facile che me la spiegate in maniera giusta a voi che cos'è BACA allora BACA è una organizzazione di volontariato che si occupa di bambini vittime di abuso è un'associazione nata già nel 1995 in un piccolo stato degli Stati Uniti nello Utah e si è poi propagata a macchia d'olio in tutto il mondo l'Italia è il primo paese europeo dove è arrivata BACA nel 2010 e ad oggi conta già 10 sedi operative e 3 in formazione allora e voi appunto con la moto nel senso diciamo andate a dare un supporto a dei bambini appunto vittime di abusi però non è una cosa fatta così cioè è appunto diciamo c'è un'organizzazione dietro come funziona e come si è arrivata appunto alla creazione di questa organizzazione allora BACA è un'organizzazione molto strutturata e prima di potervi diciamo accedere ci sono dei requisiti ovviamente e c'è tutto un periodo di formazione che dura almeno due anni un periodo di formazione un periodo di osservazione anche perché bisogna capire bene anche come ci si rapporta anche con i bambini anche proprio a livello personale questi bambini da dove arrivano chi sono come entrati in contatto con queste storie allora i bambini arrivano solo tramite casi denunciati e quindi ci arrivano solo ed esclusivamente tramite tutti quegli enti statali magari anche professionisti eccetera quindi servizi sociali tutte le minori tutti le minori psicologi e quant'altro che ci propongono il caso e quindi lo prendiamo in carico e viene diciamo seguito ecco ma come elettrico come si diventa un bacca è giusto un bacca un bikers che diventa bacca com'è un bikers che diventa bacca ha un come diceva lì un periodo di formazione che dura circa due anni due anni scusate in cui fa strada con i fratelli nemmiamo chiamarci fratelli e sorelle tra di noi siamo una grande famiglia e in questo periodo appunto fa una formazione per poter arrivare poi a dare una mano concretamente a questi bambini ok ma prima di questo com'è che a uno gli viene in mente di diventare un bacca cioè a te come ti è venuto ma allora c'è ognuno ha il suo motivo personale che sono i più disparati teniamo presente che più che il motivo per cui uno entra in bacca la cosa che è importante è il focus è l'obiettivo quindi aiutare i bambini in vittime di abuso e come vengono aiutati questi bambini in che maniera cioè che cosa fate concretamente poi con questi bambini so che ad esempio tu hai fatto degli interventi in altre città d'Italia e quindi allora i bambini noi aiutiamo questi bambini con la nostra presenza fisica ok quindi usando come anello di congiunzione proprio la moto tra noi e i bambini cosa si fa nello specifico ci sono disparate cose da fare questo varia a seconda dell'esigenza appunto del bambino noi abbiamo dei protocolli da seguire ma sono dei protocolli che vengono modificati tra virgolette a seconda di quelle che sono le esigenze proprio del minore siamo strutturati in modo per cui quando un bambino viene a far parte della nostra famiglia che gli viene dedicato una giornata tutto per lui gli viene consegnato il suo gillerino con il road name ah quindi ogni bambino prende un road name anche lui ah dai interesse prende un road name anche perché comunque noi i membri di BACA si occupano e si preoccupano di tutelare tutto quello che è la sfera del minore anche per un discorso di privacy quindi non sappiamo assolutamente qual è il suo nome cognome e quant'altro noi lo conosciamo con il road name come lui ci conosce con i nostri road name questo è interessante perché non è solo un discorso di anonimato fine a se stesso oppure di avere il gillerino con il nome bello è proprio un discorso di tutela della privacy di una persona privacy in questo caso è usato nella migliore delle eccezioni non come al solito ne abusiamo di questa parola in questo caso invece almeno sono quella cosa lì per te io sono lì io sono elettrico non ti interessare di cos'altro sono in quell'istante sono quella cosa lì come reagiscono questi bambini quando vedono arrivare questi brutti chef in moto malintenzionati che invece sono benintenzionati dipende dipende anche in questo caso dal bambino stesso brutto chef ovviamente diceva te immaginavo immaginavo dipende molto anche in questo caso dal bambino cioè chi non si preoccupa anche perché fondamentalmente i bambini non hanno un pregiudizio questo è interessante e quindi questa cosa gioca tra virgolette a nostro favore poi vediamo questi brutti ceffi come dicevi tu però siamo lì per lui e questa è una cosa che gli è chiara abbastanza da subito una cosa fondamentale che in quella giornata o nei vari incontri che si fanno noi siamo lì per lui punto per nessun altro motivo non ci interessa quello che è successo ci interessa ridargli forza cioè fargli riscoprire la forza che ha in se stesso alzare in lui la sua autostima e cercare di riportargli la fiducia nel mondo degli adulti che purtroppo sono persi e quello è fondamentale quello è interessante è interessante come appunto degli adulti cercano di far capire al bambino che non tutti gli adulti sono uguali e quel momento è importantissimo ma allora rimanete qui perché adesso ci ascoltiamo un brano poi comunque voglio capire meglio quello che avete fatto in questi anni cosa si potrebbe fare e anche facciamo un appello anche che magari le istituzioni milanesi comincino a sapere che ci siete e tenerevi in più in considerazione su magari quei casi che insomma a Milano ahimè ce ne sono tanti quindi purtroppo ci piacerebbe tanto non aver bisogno di Bacca ma invece c'è bisogno e per fortuna ci siete quindi fra poco ancora qui con Lilo ed Elettrico qui su Crystal Radio a Good Morning Milano adesso è il momento di David Bowie con Heroes David Bowie con Heroes You can be heroes just for one day e chissà se qualcuno vi definisce eroi no non lo so Bacca siete degli eroi no non siamo degli eroi gli eroi sono i bambini i bambini sono loro gli nostri eroi e allora Lilo spieghiamo un po' come funziona allora nel senso facciamo finta che adesso suona il telefono è la tutela minori del tribunale di Milano e dice ho un caso per voi boom da quel momento cosa succede? da quel momento succede che c'è una figura preposta in Bacca che si chiama Childe Jason ok ed è la persona tu sei la Childe Jason io sono la Childe Jason sì Childe Jason che cosa fa il Childe Jason? il Childe Jason va all'appuntamento dove viene proposto il caso ok parla del caso con chi lo propone quindi viene a conoscenza di tutto il caso nomi cognomi quello che è successo e quant'altro valuta in primis diciamo se può essere un caso per Bacca lo porta poi al direttivo perché abbiamo un direttivo diciamo ogni sede ha un suo direttivo lo propone se il caso tutti diciamo aderiscono dicono ok va bene caso per Bacca torna e dice ok prendiamo il caso si firma un documento protocollo e tutto protocollo e tutto e a quel punto poi tu hai in mano diciamo il caso non sarai tu a intervenire sul caso non è il Childe Jason che interviene sul caso cosa succede? la figura del Childe Jason è stata anche pensata per tutelare la privacy del minore e della sua famiglia in quanto tutte le informazioni che riceve il Childe Jason nomi, cognomi appunto tutto quello che è successo eccetera se lo tiene per sé se lo tiene per sé e diciamo può rivelare solo alcune cose diciamo basilari che possono aiutare le persone che poi seguiranno il caso qualche specifica più tecnica operativa quasi operativa per esempio se il bambino ha qualche particolarità qualche cosa che magari non tollera o bisogna stare attenti a determinati atteggiamenti parole qualsiasi cosa è un vizio di dare una pacca sulla spalla qualcuno e non non aveva il contatto fisico ovviamente magari è meglio saperlo prima esatto chiaro il Childe Jason poi pensa già una volta conosciuto il caso a chi potrebbe affidare questo caso perché vengono assegnate due persone due membri al bambino che saranno poi i membri che lo seguiranno per tutto questo percorso perché i baca sono sempre due che seguono un bambino cioè non è mai una persona sola sono sempre in due sempre in due poi a seconda questi possono essere una coppia non possono essere una coppia non possono essere amici no spero sempre amici possono appunto essere diciamo una coppia oppure essere formata ad hoc per il caso giusto? certo perché a seconda del caso il bambino potrebbe avere la necessità di avere magari una donna o due donne o una donna o due uomini dipende una volta questo appunto viene quindi dato viene fatto il match quello che fa il match tra il volontario di bacca e il caso c'è il liaison è anche la persona che tiene i rapporti tra la famiglia oppure diciamo l'ente affidatario del bambino e che riferisce perché ogni incontro fatto col bambino viene fatto poi un rapporto ok giusto e questo report viene poi condiviso con chi segue il bambino ovviamente perché è un lavoro in contemporanea giusto quanti incontri si fanno? nel senso come avvengono questi incontri? immagino che poi durante il caso poi cambiano le cose ma all'inizio come funziona? all'inizio noi abbiamo un protocollo e gli incontri sono bisettimanali due oltre settimana? no no scusa ogni quindicinali scusa no 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 anche io sempre il dubbio se si dice bisettimanali o quindicinali però tutto viene calibrato in base alle esigenze del bambino ok perché se il bambino ha bisogno di un incontro in più si va ok tra l'altro il bambino vengono dati i numeri di cellulare dei due membri che gli vengono affidati e lui può chiamarli in qualsiasi momento se lui si sveglia di notte perché ha avuto un incubo lui può chiamare il suo primary e il suo primary lo rassicura ecco tu sei stato primary no? hai dovuto rispondere di notte no questo no non è mai capitato abbiamo una struttura tale per cui qualora ci fosse necessità siamo pronti a presidiare il caso la struttura dove è ospitato il bambino 24 ore al giorno 7 giorni su 7 365 giorni all'anno perché la cosa interessante fondamentale che magari ci siamo persi ma nel senso che voglio sempre ribadire è un discorso soprattutto il primo step mi sembra di capire che è importante è quello della presenza fisica il presidiare essere fisicamente visivi e presenti giusto? perché questo che cosa avete capito che dà al bambino? noi usiamo un termine empowerment ok quindi dare forza dare forza al bambino il fatto di rassicurarlo tra virgolette a volte basta che ci vede quindi magari in altre sedi in altri chapter è successo che c'era un bambino che appunto aveva paura di stare in casa perché l'abusatore era ritornato in zona e ci sono stati i fratelli di questo chapter che hanno passato due giorni tre giorni H24 sotto la casa del bambino per il semplice fatto che se lui si affacciava alla finestra li vedeva questo è anche quello che facciamo e in questa cosa Bacca è riconosciuta in un articolo del codice civile del 403 che prevede proprio che durante un'allontanatura usate un allontanamento Bacca è strutturata il modo per aiutare questo bambino a fare questa cosa perché è quello diciamo voi ogni volta che arrivate con le vostre moto vi fate anche sentire immagino giustamente ma giustamente e quello già forse è quel piccolo primo passo che il bambino ha di fiducia anche verso di voi sì perché siamo in tanti le moto sono grosse rumorose siamo grandi non guardate me qualche tatuaggio c'è qualche tatuaggio ho visto ho intravisto diamo un po' un'immagine di forza ok oltretutto so che quando un bambino arriva c'è tutta una cerimonia giusto che fate allora questa adesso va un po' come la raccontate adesso andiamo un attimo in pubblicità però quando torniamo mi raccontate com'è che viene chiamata la cerimonia del level one level one ok ed è il momento in cui date anche il famoso gilet adesso poi me la raccontate questa allora andiamo con un po' di musica e poi torniamo perché voglio proprio raccontarvi di questa bellissima cerimonia che immagino anche bella caotica quante moto ci sono che in quel momento arrivano dipende dalle 20 anche le 80 moto appunto immaginate voi 80 moto ma anche solo 20 cosa possono fare possono dare forza e tanta forza ad esempio a quel bambino questo è Bacca Billy Joel Uptown Girl 8 e 35 minuti martedì 11 giugno 2024 siamo qui con i Bacca i Bikers Against Child Abuse in questo caso con Lilo ed Elettrico che sono qui a raccontarci un po' che cosa fa appunto Bacca e anzi entriamo un po' ancora più nello specifico perché abbiamo raccontato appunto come i vari servizi tutti da minori oppure gli assistenti sociali così entrano in contatto con voi questo succede in tantissime città a Milano non è ancora successo perché spieghiamo cari assessori che ci stanno ascoltando cari tutti da minori che ci stanno ascoltando che so che ci ascoltano quindi possiamo perché no anzi magari adesso conoscetevi allora già è difficile riuscire ad avere un appuntamento perché comunque non siamo delle figure istituzionali noi no un po' per il nostro aspetto un po' magari c'è un po' di pregiudizio magari c'è anche un po' di timore perché in fondo affidare un bimbo vittima di abuso a uno sconosciuto che si presenta col gilet con la moto insomma non è non è semplice ma anche quando riusciamo ad avere degli incontri e proponiamo la nostra organizzazione all'inizio sembrano tutti molto ben predisposti e molto entusiasti anche perché dicono caspita non ho mai sentito un'associazione che fa queste cose eccetera però poi da lì al passare il gradino no e a dire proviamo ci fidiamo di voi no è più difficile però la prova c'è nel senso che in altre città questa cosa avviene ci vediamo anche dei protocolli con altri comuni ad esempio facciamoli i nomi di questi comuni magari gli assessori di Milano chiamano quelli di Brescia Imperia abbiamo Rimini Reggio Calabria Reggio Calabria anche lavorato tra servizi magari si fanno una telefonata Piacenza ottimo sì sì e l'importante appunto sarebbe quello di riuscire ad entrare in contatto quindi facciamo un appello proprio vero e proprio cerchiamo cosa stiamo cercando a Milano a Milano stiamo cercando un ente un servizio sociale ente tutela minore qualsiasi cosa anche associazioni anche quelle che si occupano magari dei maltrattamenti sulle donne perché non dimentichiamo che anche le donne sono anche mamme e ci sono i bimbi di queste mamme quindi la violenza assistita quindi noi possiamo anche aiutare loro faccio l'avvocato del diavolo ma sapete il problema è che noi in istituzione non abbiamo soldi è sempre complicato Baca è assolutamente sempre gratuito ok volevo capire questo non chiediamo un centesimo neanche se dobbiamo portare fuori i bambini che gli offriamo un gelato neanche col costo della benzina che c'è adesso assolutamente assolutamente ok quindi fa capire insomma è un servizio davvero che potrebbe aiutare tanto facciamo ancora degli esempi perché ci sono degli esempi importanti di accompagnamento che anche sono diciamo normati anche la legge viene normata come ad esempio avete fatto gli accompagnamenti al tribunale giusto c'è un articolo il 609 decis del codice penale che prevede proprio che l'assistenza affettiva e psicologica di un minore vittima di abuso può essere affidato a un genitore o a una persona idonea per questa cosa logicamente con il consenso del minore e con il permesso tra virgolette dell'autorità che segue il caso nel 2021 questa cosa è stata estesa anche ad associazioni non governative gruppi fondazioni e quant'altro che siano preparate a dare supporto a questa bravo che siano preparate perché ricordiamo abbiamo fatto l'inizio di intervista però lo ripetiamo ancora oggi prima che un bambino venga dato in mano alla coppia diciamo individuata dal child liaison passa un bel po' di tempo certo da quando entra da qualcuno entra in bacca e in quel tempo che cosa avviene e quanto dura sono almeno due anni ok e veniamo preparati seguendo dei corsi di formazione che spesso sono anche tenuti da dei professionisti perché bacca è formata da gente di qualsiasi tipo ci sono anche professionisti tipo psicologi quant'altro quindi che sono giustamente professionisti nel momento in cui fanno una formazione ma che diventano persone comuni nel momento in cui operano all'interno di bacca giusto nel senso che poi ognuno ogni road name poi è esatto noi siamo solo Lilo sulla sua moto elettrico sulla sua moto quello che facciamo nella nostra vita diciamo privata rimane privato prima della pubblicità parlavamo della cerimonia c'è questa cerimonia level one si chiama giusto esatto che avviene quando appunto un bambino viene preso in carico dalla coppia di bacca come funziona cosa avviene praticamente viene dedicata questa giornata al bambino che non sa bene che cosa lo aspetta perché deve essere una sorpresa per lui e si organizza il tutto in un luogo diciamo sicuro lontano da occhi indiscreti e viene proprio organizzata proprio una cerimonia quindi viene portato il bambino sul luogo al che arrivano tutti i bikers perché quando viene fatta una cerimonia viene divulgata a tutti i chapter sia Italia che estero potrebbero venire anche dei bacca dall'estero e si presentano si schierano di fronte al bambino che li guarda con occhi sgranati anch'io lo farei credo anche noi e poi cosa succede? succede che durante questa cerimonia viene dato al bambino un gilet come il nostro sul quale noi abbiamo precedentemente cucito il suo road name delle toppe delle patch simili alle nostre e praticamente con questa consegna di questo gilet sancisce l'ingresso nella famiglia bacca e poi gli diamo altri diciamo altri regali altre cose c'è la consegna di un orsetto che prima di essere consegnato viene caricato in che senso a pile energia solare come è che viene caricato praticamente noi consegniamo questo orsetto al bambino dicendogli che questo orsetto abbracciandolo lui potrà sentire tutta la nostra forza prima di consegnarglielo ce lo passiamo ci abbracciamo fra di noi con in mezzo l'orsetto e gli diciamo che lo carichiamo degli abbracci quindi ci fossero anche 80 bikers 80 bikers si passano l'orsetto uno a uno e poi viene dato appunto questa pietra filosofale è capitato che un bambino ci ha richiamato per dirci si è scaricato l'orsetto non tutti ma chi ha potuto furbetto un bambino voleva rivedere tutte le moto ha fatto bene bravi bravissimi hai fatto benissimo hai fatto bene ti ricordiamo che un po' però di coordinate appunto perché magari qualcuno che ci sta sentendo in questo momento dice beh ma è interessante questa cosa allora prima un'altra cosa interessante questa cosa ma io non ho la moto non sono andato in moto allora per far parte di Baca bisogna avere la moto deve essere almeno 250 cilindrata e bisogna aver compiuto i 21 anni ok oltretutto bisogna presentare casellario giudiziale ah beh giusto giusto questo è interessante e importante però vabbè io ho la moto ho una 250 però è poco che vado in moto non è tanto che vado in moto non sono come voi che sono decenni decenni che andate in moto si impara ecco poi l'importante è quello che sia dentro non quello che sia fuori esatto esatto si può fare anche la zavorrina cosa è la zavorrina? si va in moto insieme a un'altra persona ah ci sono non tutti tuttissimi hanno la moto ok io ho iniziato come zavorrina per esempio ah ok ma tu non è tantissimo che sei una biker no ho comprato la moto per fare bacca ah perché bacca è talmente grande è talmente una cosa bella che ne valeva la pena veramente e appunto il gruppo è veramente immenso nel mondo quanti siete più o meno vi siete contatti siamo abbastanza per aiutare più bambini possibili mi piacciono le risposte dell'ambasciatore risposte diplomatiche mi piacciono complimenti bravo 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 ma dicevo appunto allora se qualcuno appunto vuole invece appunto ha la moto la 250 di tanti anni che va in moto gli piace quello che fate come si può fare per avvicinarsi a bacca abbiamo un sito che è www.baccaitaly.org in questo sito può trovare tutte le sedi d'Italia e ci sono tutti i numeri di helpline gli indirizzi email quindi può scrivere un indirizzo email può contattare la helpline e noi rispondiamo viene invitato a una delle nostre riunioni dove si fa diciamo un colloquio gli si spiega bene che cos'è bacca e cosa fa bacca e poi sarà lui a decidere fate tanti siete spesso in giro diciamo ovviamente avete una moto che teniamo in garage questo weekend sarete ad Abbiate Grasso invece che cosa succede? sì diciamo che spesso veniamo invitati ad eventi e ci permettono di mettere il nostro gazebo per dare informazioni per promuovere la nostra organizzazione per farci conoscere questo weekend esatto saremo ad Abbiate Grasso al Custom Festival 4F perfetto ragazzi io vi ringrazio tantissimo davvero portate i saluti a tutta Bacca ricordiamo il sito ancora di una volta prima di www.baccaitaly.org perfetto lì trovate tutte le informazioni insomma se volete approfondire c'è la possibilità lì le ho lette qui vi ringrazio tantissimo è stato molto interessante conoscere questa realtà io non vedo l'ora di vedervi con le vostre moto e vedere insomma questa energia voglio anche io l'ho stato caricato mi sa che sei un po' in là con l'età sono un po' in là con l'età vabbè pazienza sono contento però che appunto la vostra energia invece vada dove ce n'è davvero bisogno e speriamo appunto che anche a Milano si riesca finalmente a dare tutta questa tantissima carica energetica che avete dentro poterla dare a chi ne ha davvero davvero bisogno grazie mille ancora grazie a voi tutti spero di rischiarvi presto se poi fate aggiornamenti cose noi siamo qua siamo qua pronti ad aspettarvi intanto basta che passate davanti date una sgasata capiamo che siete voi e vi apriamo va bene ok grazie ancora Lilo grazie ancora D'Elettrico andiamo avanti con un po' di musica loro sono i Dare Straits con Money for Nothing e poi di nuovo qui per i saluti finali alle 8 e 46 minuti su Crystal Radio questa è Good Morning Milano a fra poco 8 e 55 minuti martedì 11 gennaio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano dopo di noi lo sapete benissimo ma ve lo ripeto ogni mattina perché dovete ficcarvelo in quella testolina lì c'è Ambrogio Curti con senti questa sono molto curioso di sapere cosa ci farà sentire oggi quale sarà quella che oggi Ambrogio ci dirà oh senti questa se invece volete riascoltare o rivedere tutto quello che è successo questa mattina qui in trasmissione con noi c'è un sito goodmorning.milano.it oppure basta seguire o cercare o scrivere o digitare Good Morning Milano su qualsiasi piattaforma di podcast tipo Spotify Apple Music insomma ci trovate tranquillamente lì e avete anche la versione video su YouTube e su Spotify e sì un video podcast avete la versione video oppure audio decidete voi come e quando seguirci quando volete sempre con voi se invece amate la diretta e amate la radio domani mattina alle 7 siamo qua su Crystal Radio con Good Morning Milano tutte le mattine dalle 7 alle 9 la sveglia dei milanesi ciao a tutti a domani e buona giornata ciao